Un'altra partita vinta, avviciniamoci oggi al nostro playoff e speriamo poter fare bene di qua fino alla fine. Speriamo che ci di una mano egrotassolina oggi, così stiamo un'altra volta a parità. Noi stiamo tenendo duro, sono partite queste che sono a livello tecnico difficili di giocare perché ovviamente c'è un livello abbastanza diverso e ci porta soprattutto a abbassare il livello. Però l'importante è che abbiamo preso questi tre punti. Adesso da martedì pensiamo ad Ancona che sarà un'altra bella sfida anche perché giochiamo a Trevi assicché gente di Spoleto, tifosi per favore vi dare una mano a Trevi che non sarà facile. Come sempre vi aspettiamo noi, il settimo giocatore Spoletino. Ciao, grazie.